Stasera siamo riusciti finalmente a presentare il risultato del nostro lavoro. Sono stati dieci giorni di lavoro molto intenso con i ragazzi provenienti da Polonia, Ungheria, Spagna e naturalmente un gruppo di ragazzi italiani all'interno di un progetto Erasmus Plus seguito dallo sportello Eurodesk, dall'Agenzia Finisterre, dal Comune di Domodossola, dalla provincia e dall'Associazione Confetture Musicali. Abbiamo creato diversi brani misti con ragazzi provenienti da questi quattro paesi oltre ad aver eseguito brani tradizionali sempre dai differenti stati e la cosa più emozionante probabilmente è stata il fatto che siamo riusciti anche a creare alcuni brani originali in particolar modo il brano finale che abbiamo eseguito tutti insieme, cantato nelle diverse lingue dove hanno partecipato proprio tutti i partecipanti che erano quasi 35. Quindi è stata per me un'emozione molto grande perché ho avuto la possibilità di conoscere dei bravissimi giovani e bravissimi musicisti e soprattutto di farli partecipare, di farli conoscere anche ad altri ragazzi della zona e farli esprimere nelle loro potenzialità. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.